Angela, avresti dovuto vedermi al torneo di lancio degli aeroplanini di carta. Il volo è stato perfetto e l'atterraggio da manuale. Bene, quindi hai vinto. No, solo ottavo. Non è male, però. Certo. C'era un terribile evento a sfavore, ma non voglio annoiarti con i dettagli. È quello che penso! Spostatevi presto! Angela, mi hai quasi schiacciato! Dammi il telecomando! I miei poteri sono spariti! Ah, è tornato! Eccomi qui, bellezze! Sono tornato! Chi è tornato? Il Tanner Von Quartz! Oh, grandioso! State zitti! Oh, palla, pirouette, flette e bicipiti! Quella tripla pirouette e muscoli sono per te! Grazie! Mac Thunder e il suo gruppo hanno passato il limite stamolta! Questo parco da ballo appartiene a noi! Gara di ballo, gara di ballo, gara di ballo! Ti finisce la gara, si prende il parco! Yuhu! Tanner Von Quartz è tornato! Il ritorno 2, la rivolta! Presto in tutti i cinema! Molto presto! In tutti i cinema! Finalmente, finalmente, finalmente! Sapete, amici, io aspettavo il ritorno 2, la rivolta, da ben due anni! Ma si può dire che la trama sia esattamente identica al primo film, giusto? Oh, non è vero! Nel primo cercavano di salvare il parco da ballo e in questo dovranno lasciare che sia il parco a salvare loro! È del tutto diverso! Un tipo di nome Ruby ti sta chiamando! Chi è Ruby? Ruby è una mia amica! Non è un maschio! Ho anche amiche femmine, lo sai? Pronto? Sono Ruby! Lo so! L'hai visto? Nella presentazione? Certo, era bellissimo! Incredibile! Tanner Von Quazza è perfetto! Oh, direi incredibilmente perfettamente perfetto, perfetto, perfetto! Dai, seguiamo! Sono pronta! Sono innamorata! Sembra un'espressione molto triste quella che hai sulla faccia! Come posso competere con Tanner Von Quazza? Oh, è per quello, Tom, rilassati! Non c'è niente di vero! È solo un film! Solo un film? Angela! Cioè, tutte lo adorano! E nessuna chiama le amiche quando arrivo io! Perché non provi a essere il tipo perfetto? Proprio come Tanner! Grazie, Ginger! Magari ci fosse un modo per esserlo, ma non c'è! Ma hai sentito parlare di tipoideale.com? Tipoideale.com? È un esclusivo sito web con tutto ciò che c'è da sapere per diventare il tipo perfetto! Hai sentito, Tom? Magari potrai fare colpo su qualcuno! La soluzione a tutti i tuoi problemi è Queen! Nelle mie mani! Io posso diventare il tipo perfetto! Tom, l'unica cosa perfetta sono i numeri! E a me non sembri né un 6, né un 28, né un 496, né un qualsiasi altro numero! Ben, io non me ne intendo, ma di certo nessuno cerca quei numeri che hai appena detto! Ah! I giusti occhiali da sole per ogni momento! Ci sono diversi tipi di occhiali per diversi momenti, questo non lo sapevo! 10 nuovi tipi di flessioni mai visti prima! Sembra che non vogliono farti conoscere tutti i tipi di flessioni, come fare tutto meglio e più in fretta! Sì, questo sito è forte! Stan, è certo, Tom! Molto presto Angela ti amerà più di quanto ami quel Tanner! Cosa? Angela? Non è lei il motivo per cui guardo questo sito? Tom, sappiamo benissimo che... Non è così! Ciao amico! Oh, parlano con me! Benvenuto in tipoideale.com Clicca qui per ordinare il tuo kit del tipo perfetto! Inizia subito la tua nuova vita diventando un tipo irresistibile! Tu sarai molto meglio di quel Tanner, vedrai! Io devo diventare migliore di Tanner! E il kit del tipo perfetto sarà qui domani! Voglio dire, è arrivato! Meraviglioso! Cioè, era ora! Profumo! Allora? Funziona? Tom, hai messo una sciarpa, un braccialetto e del profumo. Come possono cambiare il modo in cui tutti ti vedono? E adesso invece? Però... Che cos'è questo odore? Ah, è così attraente! Ah, che belli occhiali! Lo so. Angela, allora potrebbe interessarti sapere che da oggi io sono... Ah, non ci credo! Rubi hai biglietti per la premiera di Il Ritorno 2 la rivolta! Uhlala! È francese e vuol dire potrai vedere il film prima di tutti gli altri. Lo so perché ho vissuto in francesi. Dovresti metterti in prima fila, così lo vedrai prima di tutti. Sì, Tanner Von Quartz sarà proprio davanti a noi sul grande schermo! Sì, certo, ma non è come se lui fosse lì, dal vivo. Ora al contrario davanti a te ci sono io che... Cosa? Tanner sarà lì e firmerà degli autografi! Oh, andiamo... Cioè, va bene, va bene. Il kit non è male, ma purtroppo non è abbastanza. Devo assolutamente fare qualcosa. Che c'è? Temi di perdere Angela per sempre? No, non è quello che ho detto. Non è per questo che lo sto facendo. Hank, entra in tipoideale.com. È ora di diventare perfetti. Il tipo perfetto si allena tutti i giorni. E beve sempre bevande energetiche. Non si separa mai e poi mai dai suoi occhiali da sole. Il tipo perfetto è come una statua. In ogni occasione ha sempre un fisico perfetto. Certamente! E ovviamente ogni tipo perfetto ha dei passi di danza pronti all'uso in ogni momento. Da urlo! Voi due volete qualcos'altro il conto? Voglio dire, posso portarvi qualche altra cosa? Intendo qualsiasi altra cosa. È tutto perfetto. Ronda! Grazie. Sai, di solito non faccio complimenti, ma... Hai davvero un buon profumo. È un profumo... Perfetto. Sai che c'è? Il dolce oggi te lo offro io. Hai sentito anche tu? Dolce gratis! E se funziona con Ronda funzionerà con tutti. Decisamente. Andrò alla prima domani e farò vedere a Tanner Von Quartz, che non è più il tipo perfetto, perché quello... sono io. Lo vedo! Anch'io, anch'io, anch'io. È stupendo dal vivo. Io credo che mi abbia guardata meglio. No. Ci credo. Siete già innamorati? Sì, penso di sì. Mamma, è... Tom! Conosci quel tipo? Bel biondo! Come va? O non mi conosci, ma... Io conosco te. Ciao, amico. Belli occhiali. Ecco qui. Rimani così bella. Farò lo stesso. Amico, sei stato il tipo ideale per molto tempo. Ma io ho una notizia per te. Ora c'è un nuovo idolo in città. Ed è proprio davanti a te. Perché ti sta parlando. Io parlo con te. Cioè, sto parlando di me, ma sto parlando con te. Senti, io faccio solamente il mio lavoro. Ah, sì? Allora adesso vedrai il mio lavoro. Hank, la musica! Dov'è la mia musica? Tom! Scusate, mi dispiace! Oh no! Errore! Errore! Felenza in calo! Pendimento! Tripla tiroetta! Lezione BGD! No! TVQ 5000! Tanner von Quarzer! Un robot! Oh, con un po' di scena. Sono confusa e ho il cuore spezzato. Io sono confuso. È rotto. Rotto per sempre. Un robot. È noi il tipo che ha rotto Tanner von Quarzer! Sì, prendiamolo! Prendiamolo! Star Wars! Non lo sapevo! Il tipo perfetto indossa il casco quando lo inseguono. Grazie! Tu sei stato veloce, ma quando quelle ragazze ti hanno raggiunto e hanno iniziato a prenderti a pugni e a calci, io avrei pagato qualunque cifra per esserci. A quanto pare sei stato perfetto ieri sera. Scusa se ho rovinato la tua serata e rotto qualcuno che amavi tanto. Tom, non amavo davvero Tanner von Quarzer. Amavo il personaggio che interpretava nei suoi film. Bellissimo, muscoloso, virile e... Almeno ora sappiamo che nessun essere reale potrà mai essere perfetto come Tanner von Quarzer. Avrei voluto saperlo prima di comprare quegli occhiali. Dona lì al fondo per tipi perfetti ma con problemi economici. Sì, in beneficenza. E Tom, penso che tu sia perfetto. Sei il miglior amico del mondo! Vieni qui, abbraccia il mio amico. Forse non mi... Forse non mi sono impegnato abbastanza. Attenzione, prego! State per assistere all'impresa più estrema mai tentata da chiunque conosciate. Forte!